Carissimi giovani, dopo aver preso in considerazione quello che è il significato del genere letterario Vangelo e la novità che esso comporta, cerchiamo di capire adesso come Marco abbia contribuito a creare proprio lui stesso il genere letterario Vangelo. Noi spesso quando sentiamo la parola Vangelo la associamo direttamente all'immagine di un libro e certamente questa associazione ha un senso, perché la produzione scritta di quella che è la tradizione orale che ha preceduto la stesura dei singoli Vangeli dà la possibilità concreta per coloro che non hanno conosciuto personalmente Gesù Cristo di entrare in contatto con lui. Marco ha proprio il merito di aver reso per primo possibile questo contatto, però qui si pone sostanzialmente un problema che deve essere risolto ed è anche stato risolto. Se noi prendiamo in considerazione il Vangelo di Marco e lo paragoniamo con gli altri tre Vangeli, vale a dire Matteo, Luca e Giovanni, cercogliamo innanzitutto che il Vangelo di Marco è certamente quello più corto, è composto soltanto da 16 capitoletti che potremmo tranquillamente paragonare a 16 cartelle di un qualsiasi libro. Queste 16 cartelle che compongono il Vangelo di Marco sono presenti per il 90% nel Vangelo di Matteo e per il 50% nel Vangelo di Luca, per questo motivo in passato il Vangelo di Marco è stato considerato un Vangelo povero perché è quantitativamente poco esteso e soprattutto contenutisticamente considerato poco rilevante, tenendo presente poi che l'articolazione del linguaggio che utilizza Marco è certamente più povera rispetto a quella degli altri tre Vangeli e soprattutto utilizza quella che tecnicamente viene chiamata costruzione paratattica, cioè non utilizza sostanzialmente delle subordinate ma lega fra di loro i singoli episodi e i singoli frammenti semplicemente con la coniugazione E, è come se facessimo riferimento al discorso di un bambino piccolo che ancora non è in grado di articolare in maniera più complessa le singole frasi. Ebbene la svalutazione purtroppo del Vangelo di Marco risale sostanzialmente a Sant'Agostino, il quale considerò il Vangelo di Marco semplicemente come un riassunto del Vangelo di Matteo e del Vangelo di Luca. Questo ha portato sostanzialmente in passato a dimenticare il Vangelo di Marco tant'è vero che se noi consideriamo i numerosi scritti di commento dei padri della Chiesa li troviamo moltissimi sul Vangelo di Matteo, di Luca e di Giovanni, quasi nessuno sul Vangelo di Marco. L'esegesi moderna ha rivalutato completamente il Vangelo di Marco, perché? Beh, innanzitutto la rivalutazione risale a un famoso filologo tedesco, Karl Lachmann, vissuto tra il 1700 e il 1800, il quale, essendo professore all'Università di Berlino, stabilì definitivamente la priorità del Vangelo di Marco rispetto agli altri Vangeli. Infatti Sant'Agostino pensava, proprio perché lo considerava un riassunto, quasi un catechismo degli altri Vangeli, considerava che il Vangelo di Marco fosse stato scritto dopo gli altri Vangeli. In realtà il filologo Lachmann permise di capire che il primo Vangelo ad essere stato scritto è stato proprio quello di Marco. Come dire, in termini molto moderni potremmo dire Marco ha brevettato il genere Vangelo. Abbiamo quindi una priorità cronologica rispetto agli altri Vangeli. Marco ha dovuto inventare qualcosa di nuovo e è il primo che si mette sostanzialmente a raccontare in una successione cronologica la storia di Gesù dal battesimo fino alla risurrezione. Ecco, il Vangelo di Marco è tutto questo. È il racconto della storia di Gesù, ma una storia vista con gli occhi della fede che parte dal suo battesimo nel Giordano fino alla sua risurrezione. Il compito fondamentale che Marco si propone non è certamente di presentare tutto di Gesù, ma di creare sostanzialmente una cornice logica all'interno della quale poter poi inserire l'attenzione del lettore fino a portarlo passo dopo passo a quello che è appunto la tesi che Marco intende dimostrare e che è presente nel versetto 1 del capitolo 1. Gesù Cristo è il Vangelo e Gesù Cristo è figlio di Dio.